Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 163esima puntata del podcast di Marcos Box. Non per vantarmi, ma io quest'anno ho fatto un albero con i controfiocchi, proprio è bellissimo. Al bacio. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie dal mondo del software libero open source. In questa puntata parleremo di una inquietante metodologia di spionaggio appena denunciata da un senatore americano. Alla fine mi sa che finiremo tutti per tornare ai feature phone. E vabbè, apriamo la puntata con una notizia riguardante Linux Mint 21.3, la prossima major release della più importante e conosciuta fra le derivate di Ubuntu. Cremente che Febbre ha annunciato il rilascio della versione beta di Linux Mint 21.3. Questa nuova versione vedrà l'arrivo di Cinnamon 6.0, che segna un importante passo per il futuro della disco, in quanto introduce per la prima volta il supporto, seppur sperimentare a Wayland. Wayland non sarà prioritario rispetto a Xorg, in quanto gli sviluppatori si considerano una lunga fase di test per poter offrire, quando sarà pronta, una sessione Wayland scevra da problemi. Per facilitare il testing da parte degli utenti è stato realizzato un repository GitHub dedicato, dove ci saranno tutti i problemi relativi a Wayland, sia che dovranno essere risolti in Cinnamon, che in un progetto dell'XApp, oppure in uno strumento di Mino o in qualsiasi altro progetto software mantenuto dal team di Linux Mint. Sul blog trovate il link al repository. Le altre novità che troveremo sulla distra riguardano le applicazioni sviluppate in casa del team di Linux Mint. Il file manager Nemo introduce il supporto delle azioni di terze parti per il menu contestuale. Le azioni saranno trattate con una nuova spezia, con la possibilità quindi di creare nuove azioni e condividere con la comunità, caricandole sull'apposito sito messo in piedi dal team di Linux Mint. Hypnotics riceve poi la possibilità di importare i canali preferiti, con la possibilità di creare di personalizzati, magari che ne so, con dei video musicali presenti su YouTube. Book, invece, lo strumento per la ridenominazione e rinominazione dei file in batch, ha ricevuto il supporto per le miniature e la funzionalità di drag and drop. Infine Pix, che è il riproduttore video, adesso tiene conto dell'orientamento del video e lo ruota automaticamente. Non so perché non era mai stata fatta una cosa del genere prima. Sono curioso di provare questa nuova versione di Linux Mint, l'ho già messa su macchina virtuale, magari nei prossimi giorni farò una delle mie non recensioni. Restiamo in famiglia, Ubuntu parlano di uno dei suoi flavors ufficiali meno pubblicizzati. E faccio anche io, me la gruppo in quanto in questi anni non ho mai dedicato abbastanza spazio a Radisto sulle pagine del blog. Radisto è Ubuntu, la variante di Ubuntu che fa l'utilizzo di LXQT come desktop environment. Bene, per i suoi utenti ci sono delle buone notizie. Anche Ubuntu avrà la sua sessione sperimentale con Wayland a partire dal Ubuntu 24.04 LTS. Ancora non sappiamo come verrà gestita la cosa, l'unica informazione che gli sviluppatori ci hanno dato è che mirano a render Wayland la sessione predefinita entro la fine del 2024. Quindi con il rilascio di Ubuntu 24.10. Oltre a Wayland la versione 24.10 vi darà inoltre completata la migrazione LQT 6. Quindi significa che avrà anche la prossima major release di LXQT. Perché vi avevo parlato qualche puntata fa che gli sviluppatori di LXQT sono alle prese con la migrazione LQT 6. Quindi si stanno dando da fare. Quindi ci hanno fatto anche un'anteprima della data di rilascio della prossima versione di LXQT. Perché se completano loro la migrazione con Ubuntu la completeranno anche gli sviluppatori di LXQT. Per quanto con genere le altre novità che ci aspettano su Ubuntu 24.04 LTS troveremo alcune modifiche a Calamares. Gli installer predefinito che ci considerano in fase di installazione di sceglie tra una installazione minimale senza SNAP-D, cosa molto gradita. Una installazione normale ed una invece completa con preinstallato Element Thunderbird, Krita e Virtual Machine Manager. Avremo inoltre una interfaccia grafica per la gestione del Bluetooth e un editor grafico per configurare la schermata di login SDDM. Infine, non meno importante, avremo anche due nuovi temi predefiniti che finalmente daranno una svecchiata al cadizzo. Anche se forse pure più di due perché stanno cercando di inglobare qualche altro tema libero. Voi che cosa ne pensate? Utilizzate Ubuntu o più in generale utilizzate LXQT? Non so come, ma da quel che leggo, la maggior parte dei pinguini, quando si parla di desktop environment, LJ, continuano a preferire le soluzioni GTK come XFCE, Snowbound o XQT. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Cambiamo adesso l'argomento e passiamo ad uno che ultimamente mi sta molto al cuore. Qualche puntata fa vi avevo parlato della mia decisione di passare a Firefox come unico browser web sia lato desktop che lato mobile. Mi sono autoimposto questa decisione per una questione puramente di principio, dopo aver visto dove sta andando a naufragare la libertà degli utenti su web. Come è diventato il nuovo Internet Explorer andando a erodere le quote di mercato degli altri browser web. Basta guardare le ultime statistiche di StatCounter. Se noi andiamo a prendere il periodo di riferimento tra novembre 2022 e novembre 2023, andando ad aggregare i dati desktop, mobile e console a livello globale, troviamo che Chrome ha un 64% di adozione. Safari segue con il 19%, troviamo poi Microsoft Edge basato su Chromium che si attesa a 4,95% e Firefox in quarta posizione con un misero 2,94%. A seguire poi troviamo anche altri browser web, però sono sempre browser web basati su Chromium. La situazione dunque per Firefox è sconfortante che si trova con percentuali davvero misere. L'unico browser web non basato su Chromium che sta tenendo botta è Safari. Ma questo è merito puramente della potenza di fuoco di Apple che con i suoi device in alcune nazioni del mondo la fa da padrone con un percentuale di diffusione quasi bulgare. Ho visto i dati di Giappone e Stati Uniti dove praticamente i device dell'Apple la fanno da padrone. Quindi questo dato tiene contro appunto del dato mobile e quindi, diciamo così, fa apparire meno tragica la situazione per quanto riguarda la diffusione di Chrome. Dati questi qua che fanno paura e che fanno temere per il futuro di Firefox. A pensare in questo modo non sono il suo. E anzi, stando in una interessante analisi svolta dal blogger Bryce Wray, le cose potrebbero addirittura peggiorare. Bryce Wray ha pubblicato un articolo dove ci parla di un evento che sembra ormai imminente che secondo lui impatterà ulteriormente in maniera negativa sulla diffusione di Firefox. Il governo degli Stati Uniti ha una sua linea guida chiamata US Web Design System che è rivolta agli sviluppatori dei siti web governativi. Lo US Web Design System fornisce agli sviluppatori dei siti web governativi una serie di standard che devono rispettare per la loro realizzazione. Nella documentazione per gli sviluppatori viene però citata e utilizzata una regola, la regola del 2% che viene utilizzata anche fra l'altro dal gomologo direttiva britannica che recita Supportiamo ufficialmente qualsiasi browser web al di sopra del 2% di utilizzo così come osservato dalle statistiche del sito governativo analytics.uso.gov E indovinate un po' come sta messo Firefox secondo le statistiche di riferimento? Attualmente ha un pericoloso 2,2% si sta quindi avvicinando pericolosamente alla soglia critica. Nel suo articolo Bryceway ipotizza che cosa potrebbe accadere a Firefox qualora dovesse scendere al di sotto del 2% di diffusione. Una volta che Firefox scende al di sotto del 2% di diffusione nell'analisi dei siti web governativi l'US Web Design System dice agli sviluppatori dei siti web del governo che non devono più sopportare Firefox. Quando questa notizia si diffonde si diffonde rapidamente non solo nella comunità degli sviluppatori front-end ma anche ai dipartimenti IT delle aziende per cui alcuni di questi sviluppatori web lavorano. Molte aziende fanno affari con il governo e quindi cosa faccio il governo dal punto di vista informatico influenzerà su quello che queste aziende faranno. Le aziende vedranno questo cambiamento come un'opportunità per ridurre i costi di sviluppo e i tempi di consegna in quanto fornisce una scusa per eliminare alcuni test e in alcuni carri casi anche codifiche specifiche quindi verranno eliminate dal loro flusso di lavoro e di sviluppo con una buona pace per loro gli andrà bene perché andranno a risparmiare quindi non dovranno più testare il browser che funzioni o meno ad esempio con Firefox in questo caso. Quindi che succede? Succede che si apre uno scenario da incubo per Firefox e per i suoi utenti. A mio avviso però le cose potrebbero comunque migliorare nel 2024 perché? Perché nel 2024 come ben sapete ci sarà l'arrivo del Manifest V3 che va a ridefinire il modo in cui le estensioni possono interagire con il browser web con i nostri sistemi. Il Manifest V3 sappiamo tutti andrà a impattare in maniera negativa su come funzionano le estensioni per andare a bloccare la pubblicità su web perché? Perché non è possibile richiamare più di torte dimensioni ad esempio dei file delle liste della block list delle estensioni per bloccare la pubblicità su web e quindi sarà sempre più difficile bloccare la pubblicità dei siti web. Chrome ovviamente questa è una mossa dettata principalmente dal business di Google Google fa soldi con la pubblicità e quindi ci ha tenuto a introdurre questa modifica all'interno di Chromium e quindi ne influenzerà ne sarà influenzato Google Chrome e ne saranno influenzati anche gli altri browser web basati su Chromium. Alcuni si sono detti contrari a questa nuova implementazione per esempio ci sono browser web che continuano a fornire all'interno, integrate all'interno del proprio browser soluzioni per il blocco della pubblicità come ad esempio Vivaldi che è un adblocker integrato all'interno del browser però come avete visto anche dalle statistiche su browser che non hanno non hanno il grosso impatto nelle classifiche anzi non ci sono non ci sono per niente Firefox dalla sua ha una certa credibilità ancora all'interno degli utenti molti utenti utilizzano cioè meglio hanno sentito almeno in passato il nome di Firefox quindi sono magari utenti come me stesso come me che io in passato ho sempre utilizzato e sostenuto Firefox poi sono migrato a Chrome nel corso degli ultimi anni per una serie di incompatibilità che erano presenti all'interno di Firefox perché Firefox è rimasto molto in titolo in diversi ambiti uno su tutti mancava ad esempio la possibilità di tradurre le pagine web una cosa che a mio avviso è essenziale che spero adesso che è stata introdotta il traduttore sulla versione desktop spero che francamente che venga introdotta breve, brevissima il più presto possibile anzi sulla versione per Android perché è una cosa che noi utenti che non siamo anglofoni abbiamo la necessità di avere che poi non è soltanto per le pagine in inglese quante volte vi capita di nel mio caso mi capita anche di leggere blog tedeschi blog cinesi e quant'altro dove il traduttore serve delle pagine quindi dicevo perché secondo me Firefox potrebbe beneficiare dal manifesto è perché Firefox è comunque ancora conosciuto e Firefox non non abbandonerà le vecchie le vecchie regole per la realizzazione delle estensioni quindi gli adblocker continueranno a essere efficaci su Firefox quindi ublock origin che sapete è anche installabile direttamente sulle versioni mobile per Android di di Firefox ublock origin continua a essere efficace quindi spero che manifesto 3 sia un modo per far prendere coscienza agli utenti di esiste Firefox funziona è buono dire agli utenti che hanno abbandonato Firefox vedete che Firefox è migliorato e vi fa bloccare la pubblicità su web non avrete sbattimenti e quant'altro tornate a Firefox passate a Firefox e quindi dicevo spero che questa situazione che il manifesto v3 sia un'occasione per Firefox di riguadagnare quote utenti e lo dico spero che Firefox si riprenda non lo dico soltanto da un punto di vista dell'utente ma lo dico anche per per tutti noi che amiamo la privacy perché Firefox è da sempre il pioniere accanto agli utenti nella crociabilità per migliorare la privacy su web con diverse funzionalità che sono state integrate all'interno del browser contro il tracciamento spietato che fanno i siti web e avete visto ci tracciano in tutte le maniere fa poco vi parlerò anche di un altro tipo di tracciamento che che è possibile fare addirittura sui smartphone che è molto inquietante lo dico nel prossimo spessore di puntata comunque oltre a questo temo temo anche uno scenario completamente basato su Chrome e sui browser basati su Chromium lo temo dal punto di vista puramente pratico di salute del web perché in uno scenario dominato dai browser web basati su Chromium una potenziale faga di sicurezza se non scoperta per tempo potrebbe avere effetti tragici così come accade in natura quando non c'è biodiversità che viene un batterio e fa strage di una determinata cultura oppure viene un virus e fa una strage di una determinata specie animale quindi il fatto di la mancanza di biodiversità è dannosa nel mondo naturale figuriamoci anche nel mondo informatico dove noi abbiamo praticamente tutti i nostri dati ormai tutte le nostre operazioni le affidiamo a web quindi il browser è diventato una parte importante e vitale delle nostre vite e avere un browser unico potrebbe rappresentare un rischio di sicurezza enorme sia per gli utenti che per le aziende voi che cosa ne pensate di questa cosa sono io paranoico sono io che la faccio troppo tragica o anche voi pensate che Firefox merita di acquistare quote merita questa cosa lo meritiamo tutti quanti come comunità lo meritiamo anche per un internet migliore tutti quanti fatemelo sapere nel cospezione prima vi dicevo che avremmo parlato di privacy e continuiamo a parlare di privacy con una importante scoperta che arriva dagli Stati Uniti governi non identificati monitorano gli utenti di smartphone mediante il sistema di notifiche push di iOS e di Android a far emergere questa vicenda questa cosa che è molto inquietante è stato il senatore americano Ron Wyden che negli scorsi giorni ha inviato una lettera al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nella quale ha affermato che funzionari stranieri stavano chiedendo dati a Google e a Apple le applicazioni su iOS e su Android utilizzano un sistema di notifiche push per notificare i messaggi in arrivo le notizie gli aggiornamenti di varia natura insomma tutto quello che transita che noi ci arriva la famosa notifica push del medio della posizione o dell'applicazione in tal dettaglio che ci stanno identificando qualche cosa non viene gestita direttamente l'applicazione ma passa attraverso dei sistemi dell'autostrada diciamo così che sono realizzate che transitano sui server di fatto sui server di Google e di Apple attraverso questi dati è possibile ricavare informazioni come per esempio le applicazioni utilizzate quando un messaggio è stato visualizzato con chi si è comunicato in alcuni casi è anche possibile ricavare la posizione a seguito di questa denuncia della denuncia da parte del centro Ron Wyden Apple si è pronunciata affermando che questa vicenda dà loro l'occasione di cui avevano bisogno per condividere maggiori dettagli con il pubblico su come questi governi monitorano le notifiche push Apple ha anche affermato che in questo caso il governo federale gli ha proibito di condividere qualsiasi informazione aggiungendo inoltre che oltre questo metodo che è diventato ora che questo metodo è diventato pubblico hanno deciso di aggiornare i rapporti sulla trasparenza per dettagliare questo tipo di richieste per far conoscere al pubblico come funziona tutta questa vicenda dall'altra parte della barricata Google ha affermato che condivide l'impegno di Wyden nel mantenere gli utenti informati su queste richieste ovviamente il governo e il dipartimento di giustizia ha rifiutato di commentare la sorveglianza delle notifiche push o se abbia impedito a Apple e Google di parlarne quindi se Google e Apple hanno fatto quelle dichiarazioni è perché hanno avuto pressioni diciamo è inutile che il governo il dipartimento di giustizia degli stati uniti dice no io non ho detto niente farlo ignori quando secondo me quando un governo imparate questa cosa quando un governo dice si rifiuta di commentare una notizia è una notizia vera non è che sta dicendo perché non la può negare si evita di commentare io se per la serie non dico niente che non sai che cracchio dire e ormai ti hanno preso con le mani nella marmellata stando a quando riportato dall'agenzia di stampa Reuters una fonte a conoscenza della questione ha confermato che sia le agenzie governative stranieri che quelle statunitensi hanno chiesto ad Apple e Google metadati relativi a notifiche push ad esempio per aiutare a collegare gli utenti anonimi di applicazioni di messaggistica a specifici account Apple e Google la fonte ha rifiutato di identificare quali sono i governi stranieri coinvolti nella richiesta però ha detto che sono democrazie alleate degli Stati Uniti la fonte inoltre ha detto di non sapere per quanto tempo tali informazioni fossero state raccolte grazie a questo metodo tutto questo è inquietante noi fino ad adesso avevamo sempre da ridire contro i governi totalitari come la Cina diciamo dove dice c'è la grande sorveglianza dello Stato quanto poi vediamo che anche nei nostri occidentalissimi e democraticissimi paesi ci sono governi che hanno accesso a determinati tipi di informazioni e richiedono anche ai big dell'elettronica e i big dell'elettronica quando un governo gli dice gli chiede qualche cosa devono stare zitti e buoni e condividere determinate informazioni quindi non è che si possono rifiutare poi sapete bene pure come funziona il fatto che tutto quello che transita per riserve degli Stati Uniti è soggetto alla registrazione degli Stati Uniti quindi potenzialmente quelli gli Stati Uniti possono eventualmente spiare un qualsiasi cittadino a livello globale perché appunto i dati passano per riserve statunitense quindi devono sottostare alla normativa statunitense ecco perché l'Unione Europea da tempo si sta battendo al fine di riacquistare la sovranità dei dati dei dati dei cittadini europei mettendo centri per raccolta dati sul territorio europeo in modo tale che siano questi dati sotto lo scudo delle normative europee per la privacy e quant'altro quindi grazie Unione Europea sotto questo punto di vista buono lo so io lo trovo inquietante tutta questa vicenda perché nel corso degli anni si scoprono sempre cose del genere e ogni giorno si aggiunge un tassello al grande strumento di sorveglianza a cui noi siamo costantemente siamo costantemente affezionati al più grande strumento di sorveglianza che noi utilizziamo costantemente che ci portiamo appresso costantemente 24 ore su 24 che a domenistanza assieme a noi che in alcuni casi ce lo portiamo anche al bagno quando prima si leggerono le riviste ma si leggono le notizie sul telefonino la mattina quando si fanno i bisognini ce lo portiamo al lavoro ce lo portiamo ovunque lo smartphone e siamo tracciati costantemente siamo costantemente tracciati spiati da multinazionali e anche potenzialmente da chi dovrebbe vigilare su noi cittadini quindi dai nostri governi non è da fare il solito discorso io non ho nulla da nascondere che mi frega perché adesso l'Italia è una democrazia domani mattina potrebbe andare al potere una determinata fazione politica che ce l'ha con dissidenti cioè che etichetta come dissidenti l'opposizione o che magari ce l'ha con una determinata particolare categoria e con questi strumenti può ulteriormente spiare i propri cittadini è una cosa che penso che nessuno voglia una cosa del genere uno scenario voi che cosa ne pensate sono io che sono paranoico o la pensate anche voi così lasciate un commento ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 163 puntata del podcast di marcos box come sempre vi invito a seguirmi numerosi sulle pagine social su facebook x linkedin o astrodon ma anche su youtube e telegram vi ricordo inoltre che su telegram trovate tre canali per seguire il blog la pagina principale con notizie che potete utilizzare a modo di feed reader la community telegram dove potete discutere di tutto quello che vi interessa di infine un canale telegram con una serie di offerte amazon da me selezionate che potete utilizzare per supportare il blog grazie ai link di affiliazione o se siete più spanettoni potete utilizzare direttamente voi codici e referi al marcosbox meno 21 che trovate linkato sul blog vi ricordo inoltre che potete supportare il blog anche acquistando o rinnovando la vostra vpn su nordvpn surfshark e atasvpn utilizzando i miei link affiliazione che trovate sul blog ebbene con questo saluto a tutti quanti lunga vita e prosperità ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di marcosbox ciao ciao